Ahahahahahah E che cosa ti fa pensare di essere degno della perla nera? Beh, sono quattro anni che non mi taglio i capelli e non mi lavo Arruolato, metti una croce Il prossimo Sono un zappo nel ginocchio, ma dirò solo più forte Perfetto! Il prossimo, so quello che... E' da tre anni che sono un cacciatore nera male ma non di agrante Di vedetta sulla coffa So quello che voglio Il prossimo E' da un contatto con un pallone Vorrei prendere Sarai accontentato Firma la lista Come va? Inclusi quei quattro? Siamo arrivati a... Quattro